La corsa all'oro, il miraggio di improvvise e incredibili fortune, il favoloso West, la California, il Colorado, il Kansas, Kansas City, una città leggendaria, là dove gli uomini sono uomini. Stanno inseguendo? Mamma Santissima! E le donne? Beh, a parte Bell Star e Calami di Jane, tutte le altre rimasero alquanto nell'ombra. Vieni tra le mie braccia, torto barato. Tu chi sei? Sei una figlia di Maria che non ti piaccia. Eppure ce ne furono alcune, per la precisione sette, di fronte alle quali Billy Kidd, Jess James ed altri illustrissimi fuorilegge diventarono timidi agnellini. Parla, carogna, o ti taglio il naso, prende lo schiaffo là dove non batte il sole. Sette monache a Kansas City, un film che non ha precedenti nella cinematografia mondiale, e ancor meno nella storia delle piancelle del Signore, trapiantate nelle più lontane missioni. Fratello mio caro, la giustizia e gli oppressi non si difendono solo con le armi o con gli scioperi, ma anche a suon di sganassoni! Fratello mio caro, la giustizia e gli oppressi non si difendono solo con le armi o con gli scioperi, ma anche a suon di sganassoni! Fratello mio caro, la giustizia e gli opposi non si difende! Grazie a tutti.